Buongiorno a tutti, io sono Paola Chiarugi, sono il direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, sono il coordinatore di un progetto finalizzato da una partnership tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e AIRC, la più prestigiosa delle agenzie di finanziamento in campo oncologico italiano. Coordino un progetto chiamato multi-user, che ha finanziato delle infrastrutture nella fattispecie la facility metabolomica, costituita da uno spettrometro di massa, un GC massa, gas cromatography massa, e un seahorse o cavalluccio marino, che è uno strumento che permette di analizzare il metabolismo delle cellule in vivo, direttamente, andando a evidenziare quelli che sono i talloni di Achille delle cellule tumorali, in particolare la deregolazione del metabolismo tumorale. Questi progetti nascono da una partnership tra la Fondazione e AIRC, una partnership lungimirante con cui la Fondazione si avvale della capacità di valutazione di questo ente come AIRC, molto accreditato anche a livello internazionale per la valutazione dei progetti. Da questo progetto, cui partecipano molti ricercatori, sono nati diversi lavori per la precisione più di 30 pubblicazioni a livello internazionale.